Allora, Mirisola, di fresca nomina possiamo dire? Sì, un argomento che sta molto a cuore alla città e soprattutto anche al Consiglio Comunale, visto che è stato votato all'unanimità di riuscire a costituire questa commissione d'indagine sulla Fanon Fortuna. Un risultato importante, il Centrodestra Unito mi ha nominato, la mia nomina non sarà, avverto già in anticipo, non sarà di centrodestra ma vorrò essere garantista, cercherò di ascoltare tutte le parti politiche, che saranno appunto il centrodestra ma anche il centrosinistra e 5 Stelle perché è giusto fare un fronte comune per riuscire a dare delle risposte serie alla città. Questa commissione era voluta da diverse parti politiche, comprese appunto Fanon a 5 Stelle e insomma la sua nomina forse ha suscitato qualche malcontento, come mai pensa? Ma guardi, sinceramente io penso che sia stato fatto un buon lavoro anche dalla commissione di garanzia e controllo che è abbastanza similare, diciamo che qui possiamo fare qualche azione in più, un pochino più concreta, andare anche ad approfondire alcuni argomenti, ma io penso che se c'è la volontà reale di riuscire a ricostruire come sono andati i fatti e riuscire a trovare le responsabilità politiche, penso che collaborare non è un problema, almeno per quello che riguarda me e penso anche il resto dei componenti. Diciamo che a mio parere questa uscita di 5 Stelle è un pochino fuori luogo, anzi è anche un pochino azzardata in certi commenti anche abbastanza gravi, diciamo, che sono sinceramente inutili, anzi io gli invito proprio a collaborare al massimo, come invito anche appunto il centro-sinistra a collaborare appunto per dare delle risposte serie e non attaccarsi perché non serve a niente.